L'assessorato all'ambiente del comune di Oristano questa mattina ha provveduto a rimettere a dimora una palma in piazzetta Trepalme. L'affascinante angolo del centro storico era rimasto orfano di una pianta esattamente un anno e mezzo fa, nella primavera del 2018. La palma infatti era stata colpita dal punteruolo rosso e il comune di Oristano aveva dovuto provvedere all'abbattimento. Era doveroso da parte dell'amministrazione riposizionare la terza pianta, fa sapere l'assessore all'ambiente Gianfranco Liccheri. Non è stato facile però trovarne una alta 4 metri e mezzo come questa che abbiamo posizionato stamattina. La pianta arriva dal vivaio Congiu comune di Serri.